Ci ritroviamo con Gianluca Cicco, uno degli autori dei programmi che sono partiti con il nuovo palinzesto RTC Quartarete. I programmi appunto di Gianluca sono Come eravamo e a cena con l'autore. Adesso appunto Gianluca ce ne parlerà. A te Gianluca, cominciamo da Come eravamo. Sì, Come eravamo è un programma di storia, innanzitutto della nostra città di Cava dei Tirreni, poi si allargerà pian piano al contesto territoriale salernitano. È un programma sì culturale, ma fatto con un linguaggio molto leggero, anche con soltanto i contoni molto spensierati. Però con informazioni molto chiare, è un programma fatto per strada, a casa di persone che possono darci delle informazioni concrete. Quindi è un programma un po' on the road. Il modello è quello molto più alto dei programmi di Piero Alberto Angela. Ovviamente nel nostro piccolo cerchiamo di prendere questo modello, di cercare di fare il meglio possibile. A cena con l'autore, e questo scusami, Come eravamo va il venerdì alle 21. A cena con l'autore è un programma che a me piace molto. Va la domenica alle 21.30, ogni domenica. È un programma che consiste semplicemente nella presentazione di libri, fatti però a tavola di un ristorante, chiacchierando con l'autore del libro. E prima ancora di entrare nel merito del libro, si va a curiosare nella cucina del ristorante stesso e lo chef ci illustra volta per volta una ricetta che lui va a dimostrare. Per cui è anche un modo di coniugare due piaceri, quello della lettura e quello della cucina. E speriamo che il programma, come eravamo, possa piacere al pubblico. Perfetto, quindi rimanete in onda qui sempre su RTC Quarta Rete con i programmi di Gianluca Cicco, Come eravamo e A cena con l'autore.